parliamo di cibo no parliamo di alimentazione tu sei un reduceriano no tu sei un pescetariano noi siamo su infodatacast parliamo di stili alimentari salutari secondo un'indagine realizzata da italiani.com un italiano su 5 si affida al biologico e un italiano su 5 si definisce reduceriano cioè colui che vuole ridurre il consumo di carne attenzione sceglie una dieta iperproteica il 7,1 per cento della popolazione supera sia i vegetariani che sono 6,7 che i vegani che sono il 3,6 e poi ci sono anche quelli che mangiano solo il pesce e quelli che credono nel digiuno il 5 per cento non muoiono ah questo la statistica non lo dice e ora i luoghi comuni confermati dai numeri ad esempio le donne mangiano molte verdure vero gli uomini mangiano più carne vero al sud si mangiano solo piatti tradizionali falso quando invecchi è vero che mangi meno carne vero quando sei giovane è vero che vuoi essere vegano falso vi abbiamo mentito ma solo in un caso scoprite voi la risposta sbagliata grazie a tutti